bella ragazzi nuovo gioco nuova avventura sapete che porto tantissimi giochi ragazzi sul canale quindi ce n'è per tutti i gusti siamo casuale mi piaceva di più il primo sinceramente perché devo essere tutti oh ok il 17 17 maggio 78 allora la chiesa la luce secondo l'umanità spinta tra poi la scorta ora metti in guardia l'uso di reliquie per paura che la storia si ripeta wow quanti anni luce di caricamento ci devono essere su questo giochino dai ma si è inchiodato no no esplorerai le rovine e vai ciao bro my time a portia portaglia proprio ciao come stai felici di rivederti già sono qui per mostrarsi la bottega chissà quando andrà così ho lavorato e ho lasciato tante cose ok oh la tua bottega domani ti lascio in pace esatto esatto ciao ciao presto grande presley portia harbor portia harbor warehouse ragazzi warehouse ah ma proprio dormire che mal di testa eh si eh si ah serve le cose legna mi serve per chiudere i buchi eh la casa che ha lasciato nostro padre è tutta bello allora ciao abbonato facciamo una ok guanti 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 allora accogliamo la legna guanti 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 uh che belli non posso no non attacchiamoli poverini ciao signora coccinella questa è cacchina cima vabbè chi è sta ragazzo a un dottore piace raccogliere l'erba no vabbè ma io scillo sempre sulla media dei 70 80 kg ne scendo dai 70 ne salgo dagli 80 è un gondino salgo 100 allora stai bene tec attiramenti io su 130 130 amico mio ciao amico buon lavoro mandami una foto di una pizza strepitosa stasera ti prego un hamburger Grazie a tutti. Grazie a tutti. 9 legna per riparare la casa, non ci credo ragazzi. Non abbiamo preso abbastanza legna. Ma questo è tutto un campo... Allora, vediamo un attimo. E' la legna. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Sta legna, ragazzi, non la trovo. Incontra Presley. Ah, forse è un discorso che dobbiamo incontrare Presley prima della legna, raga. Di qua Presley, credo. E' qua dentro Presley, forse. E' credo proprio di sì, eh. Negozio di Alice e Fiori. 23, non c'è una lira Alice, scusami. Eccolo Presley. Sarà qui? Non sarà qui? Sì. Vice di vederti, molto bene. Fantastico, lascia che ti presenti il... Siamo l'organizzatore. Ecco il nuovo esame di costruttori. Uh, per creare il bisogno di legna e pietra. Ah, qui c'è incarichi speciali. Quindi andiamo al banco di lavoro, mi ha detto. Allora, andiamo al banco di lavoro. Allora, se non sbaglio... Dov'è a casa mia? E' qua. Oh, sono andato lontano, 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 eh. Eccolo. Allora, piccone. Allora, piccone. Allora, piccone, lo possiamo fare. Lascia semplice, no. Quindi... Abbiamo bisogno dell'ascia? Io credo che con una cacchina stiamo andando. Abbiamo bisogno dell'ascia. Oh... Allora... Allora, andiamo al verme. Allora... Allora... Ok. No, solo le rocce. Beh, c'è anche la motivazione, eh. un piccone. E' un piccone. La legna. La legna. La legna. Non vedo legna per terra. Poi, tra l'altro, c'erano anche dei pezzi di pietra in giro, ma... in questo momento non li vedo più. Forse sono quelli là. Proviamo a trovare un po' di legna per terra. E non ne sto vedendo più. Questa è la pietra. Ah, i pezzi piccoli. Ma calcio per qualche cosa? Vabbè. Eccoli qua le pietre piccole. Allora... Dua datà. Adesso avrei bisogno io di un po' di legna. Adesso avrei bisogno. Ok, andiamo alla base, però non ho preso il famoso legno. Fa degli sprint e dà paura? Ciao amici, allora... C'è qualcosa? Allora, dobbiamo andare... Ciao Sonia. Andiamo ad andare al commercio della gilda. Seguiamo un attimo quello che dice anche il gioco. Oh, Marco Sonia, ti stai ambientando? Molto bene. Fantastico. Lascia che ti presenti alla gilda del commercio. Uh, il primo esame da costruttore, piuttosto semplice. Crea un'ascia e un piccone. Ok. Materiale crazy, banco di lavoro. Ok. Ascia e piccone. Allora, il banco di lavoro è questo qui, amici miei. Allora, crea... Ok, ascia... Ascia e piccone. Legno e pietra? Allora, pietra? Credo che sia questa... Credo che sia questa... Ah, col verbe anche... Perfetto. Però, più che altro, dobbiamo trovare legna e pietra. Legna... La pietra, la pietra... Uh, legna ce n'è un botto. Guarda questo. Cos'è? No, è una trappola. Legna ce n'è... Pietra... No, raga. Legna ce n'è... No, raga. Qui... Sicuramente sarà da fare un ponte... E non si può. Sì, ma non ho la crema aperta. Non ho nulla, in realtà. Dov'è la pietra? Dov'è la pietra? Proviamo a girare un po', perché... È proprio la pietra che non trovo, raga. Allora... Qua un po' di pietra c'è però, eh. Se non me la butti giù... Se non me la butti giù... Pietra... Come facciamo? No, ma c'è un botto di pietra qua. Il gioco ti porta a esplorare. Sì, ma non c'è pietra qua. Attenzione. Un po' di pietra qua. Ah, ho bisogno della pietra... c'è un sacco di pietra di aviccio di mare volante interessante Watson consuma l'abudenza io qua non trovo quello che mi serve non trovo assolutamente la pietra quanto ne serviva di pietra per fare l'ascia non è che è uno magari vabbè proviamo dobbiamo vedere ok 16 2 8 sì ma dammi anche un po' di pietra per cortesia dammi anche un po' di pietra per cortesia ho bisogno un po' di pietra per piacere qui ce n'è un po' qui ce n'è un po' un po' di pietra lì ciao si nuovo ciao beh è chiuso se è chiuso è chiuso saranno in ferie ho bisogno ancora un po' di pietra a gioco conigli illusionista allora diciamo che ho visto praticamente tutto abbiamo esplorato tutta la zona abbiamo 10 quindi non ci facciamo solo uno dei due qui ci sono le pecorelle che sa dove sarà altra pietra tutti Grazie a tutti Ok Johnny Qui è un molo di pesca incredibile Dobbiamo tornare a Cassina A casa nostra Perché primo è Buio Grande Vedi che se non Conchiglia e sabbia Beh non era quello che volevo io Non era quello che mi serviva Come serve solo la pietra Oh Un bus Sì ma Non mi ha portato più lontano di quello che dovevo Grazie bus E' la cosa che mi manca Aspetta Ciccio riccio Perché sistemo io Allora Se il legno ce l'ho E non ho la pietra Faccio il piccone Così spacco la pietra Grande Marco Allora piccone Uno Ok Come lo prendo il piccone Beh non ho abilità Allora io dovrei Continua carica Opzioni Usare piccons Inventario Ok Ok Quanta pietra Ok Così ti voglio Adesso faccio Un'ascia semplice E ho bisogno Altro Dai che c'era un sacco di Dov'è che Dov'è che gli ho trovati I massi Dovevo andare così lontano Tutte le volte E credo proprio di sì Posso anche entrare di qua Credo Eccoli qua Eccoli qua i massi Solo quelli piccoli C'è anche il rame Bravo 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 Oh Saregando Ok Diciamo Che adesso sono un po' più tranquillo C'è un po' di Ma io ho anche Per la legna Ho letto Si sta Rompendo magari La energia E come faccio l'energia Mangio erbe Mangio un bruco Oh Dai Ma sono svenuto Spero Ok Ok allora Sviene perché è stanco Ci sta Allora Ascia Ne ho due Piccone Ne faccio un altro La spada Serve Legna Allora Ricordate che è un momento Apportivo Disposizione Ok Perfetto Grazie Ok Ok Grazie La concorrenza Non importa Ci siamo Infatti Iniziamo Chiacchiera Comunque Vi ho detto che Gal Non aveva abbastanza Gal Mi piaceva Ma sono preso Ok Ciao 8 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 Ciao Soprisa Di cerco E spesso Ok Regalo La lotta Ehm Ok Incarichi Sono messo Incarico Boscano Boscano Noci Ascolti Ciccia Non è che mi Fai parlare Con qualcuno Noci 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 Hey, Dr. Shu is the ideal man. Good looking, gentle, and... Ha vinto lei. Non ho più palli d'idea. Ti regalo una conchiglia. Io devo, io devo darti queste cose io devo dare, finire. Dov'è che si fa? Forse... Ah, excellent quality! Hey, sweetheart, you can keep it. Ok. Costruisci un forno. Grazie Giuseppe che eri lì a farti i cavoli tuoi al bar. E io qui a schiattare, a costruire cose incredibili. Grazie a tutti. Facciamo giù un po' di lente per un bilanino. Ok, allora, questa cosa è bella. E ora, faccio il bilanino. E ora, la faccio una bella. Quindi, la faccio una bella. Perciò, questa, questa è un bilanino. E ora, c'è un bilanino. facciamo giù un po' di legna ragazzi che qua non so neanche cosa serva per facciamo via gli alberi di fianco a casa mia che la rendono un po' brutta orca è lì il forno spada attrezzi forno di prietra allora sgabello forte sgabello di pietra uno che faccio a farlo ah aspetta no no il forno di pietra voglio io ma non voglio il macinatore forno di legna di pietra vedo solo un forno di pietra questo creazione io voglio solamente ma perché mi gira di là ma perché mi giri di lì ma perché i mobili ma è un po' strano ogni tanto mi fa mi fa il destra e il sinistra mi fa non ho capito perché indice assemblaggio catalogo manuale va bene io voglio fare l'assemblaggio questo ok e mi fa il macinatore ma perché perché io non voglio il macinatore voglio il forno di pietra che casino non voglio la macina per metalli ma perché non va giù poi tra l'altro cioè va giù lentissimo ma No, no no essenzialmente non è strutturato bene allora io voglio voglio il forno di pietra incandescente quindi maneggiato con cautela ok ok lo sgabello l'ho fatto ok ok il forno servirà un forno migliore puoi usare piccone per spaccare le rocce ok non voglio il macinatore perché ci vuole rame quindi indice assemblaggio non c'è e fa fa cose strane forno di pietra ok sempre macinatore ma perché forse perché devo metterlo qui non ho capito perché si blocca sinceramente se blocca ragazzi che cosa vuol dire controlla poi si blocca che cosa vuol dire eh ho capito ma come si fa ho creato lo sgabello di pietra allora no smettila di avere in mano quella roba lì ok oggetti io voglio solo creare un forno e non va neanche giù ok 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 mamma mia mamma mia quando si inchiodano è un po' è un po' è un po' è un po' è molto incasinato capire come si fa va beh lo facciamo al prossimo episodio ciao a tutti da Mattime Portia Marco Drowns Games alla prossima statemi bene ragazzi e ci vediamo al prossimo video mi raccomo di seguire il mio canale youtube facebook twitter instagram tiktok e twitch per le live e tutto il resto per tutti i video di gioco e delle live ciao ciao a tutti ciao a tutti